Stasera in Fatte e Misfatti proporremo immagini molto interessanti, alquanto significative per quel che riguarda la nostra realtà regionale. Dal Family Campus Calabria, che si è tenuto in quel disederno per ben tre giorni, abbiamo voluto percepire i messaggi, le sensazioni che sono venute e a margine del convegno abbiamo conversato con la professoressa Circosta e con l'ex procuratore capo della Repubblica di Catanzaro, il giudice Vincenzo Lombardo, perché mutuassero delle esperienze e dalle esperienze dirette venire fuori con un neon spaccato, del quale dobbiamo tenere debita considerazione, se vogliamo effettivamente far sì che questi soggetti diversamente abili costituiscono un valore aggiunto per le nostre realtà territoriali e da un discorso sinergico tra famiglia ed istituzioni, ma principalmente tra la famiglia e la scuola, possono essere inserite strategie, motivazioni ed altri elementi, in quanto siamo convinti che il miglioramento della qualità della vita è l'elemento cardine per la nostra realtà temporanea e che le scienze umane, che se ne potete dire come diceva e scriveva l'etterio smeriglio, costituiscono un elemento cardine per la crescita dei nostri giovani. Diceva lo studioso siciliano che la vita può essere migliorata e che tutte le scienze umane concorrono a tale scopo. Con questo intento noi vi proporiamo stasera, fatti e misfatti, con l'intento di chiarire ancora una volta una pagina non secondaria della nostra realtà contemporanea.